Grande festa di apertura sabato 24 settembre per il nido di infanzia Peter Pan di Formigine che può dirsi ora ufficialmente operativo. La struttura da inizio settembre ospita 21 bambini ed è diventata parte integrante del polo per l'infanzia Barbolini-Ginsburg. Si tratta di una sperimentazione rara di cui si contano pochissimi esempi in regione in cui nello stesso polo convivono la scuola dell'infanzia statale tra 6 anni Ginzburg, tre sezioni del nido Barbolini in concessione alla cooperativa sociale Gulliver e la neosezione del Peter Pan, nido comunale a gestione diretta. Tre realtà differenti che potranno collaborare sperimentando percorsi educativi in ottica di confronto tra insegnanti, educatrici e istituzioni diverse. Questa sarà una sperimentazione che porteremo avanti proprio per mettere insieme tre modi diversi anche di lavorare e di approcciarsi al sistema educativo e didattico e che porterà sicuramente nuove opportunità per la crescita dei nostri piccoli cittadini. Tra i progetti che verranno portati avanti all'interno del nido c'è anche Sentire l'inglese, iniziativa per cui la regione ha da poco stanziato nuove risorse che a Formigine coinvolgerà quest'anno oltre al Peter Pan anche i nidi Don Zeno e Momo 2. Le educatrici sono già state formate l'anno scorso e continueranno questo percorso con lo step successivo e coinvolgeranno i piccolini in attività appunto di avvicinamento all'inglese però fatto attraverso i suoni, le parole, i momenti di lettura e di gioco quindi in una maniera non didattica ma di coinvolgimento molto naturale all'interno della quotidianità e della giornata. A Formigine le inaugurazioni di strutture dedicate all'infanzia non si fermano qui, l'ex circolo Flora di via Santonofrio diventerà presto un altro nido in grado di ospitare 15 bambini. A gennaio o in primavera apriremo una nuova struttura in convenzione privata perché da noi c'è un giusto mix penso di pubblico e anche di convenzionamento e quindi siamo abituati a lavorare in squadra con il pubblico e anche con i convenzionamenti con chi vuole mettersi in gioco per i nostri bimbi.